Io ho una bicicletta Io ho un guasto alla macchina Noi siamo molto felici I miei genitori sono giovani Mio cugino ha due gatti I miei vicini sono due tedeschi Voi siete in vacanza Claudia ha mangiato una mela Voi avete il suo indirizzo? Le ragazze sono arrabbiate Loro sono lontani da casa Lei ha molte piante Noi siamo alla stazione Voi avete qualche informazione? Io ho un'auto nuova Noi abbiamo un appartamento Il mio computer è vecchio Lei ha i capelli biondi Se hai sete, bevi l'acqua In biblioteca abbiamo molti libri I miei vicini sono simpatici Alla stazione Io ho un'auto non San gender Se ti deve aiutare In biblioteca Il mio computer è un'auto . Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.